Ciao a tutti! Allora, postazione un po' strana perché facendo col cellulare ho trovato un posto per appoggiarlo sulla finestra e vado a farvi il video dei prodotti finiti perché ho una serie di cose di cui devo assolutamente liberarmi e intanto libero questa busta dove ci sono prevalentemente cose per capelli vado molto velocemente, in primis questa semi permanente del colorista vabbè, questo è stato un esperimento molto molto fallimentare strawberry blonde si chiama questo? sì, insomma avevo le punte chiare come potrete immaginare perché adesso sicuramente non potrei farlo ma assolutamente non ha fatto niente di niente ma neanche un vago riflesso al di là di questo, in generale, in realtà ho provato anche altri prodotti della colorista tinta per capelli permanente, un'altra semi permanente non mi sono trovata bene con niente e quindi basta, croce sopra, io non prenderò più nulla della linea colorista speriamo poi ho finito questo kit che è il remover della Vitality, si chiama Color of Vitality, la marca è questa ho già fatto dei video su questo prodotto, questa è la seconda confezione che io termino in pratica cos'è? è un prodotto che rimuove il pigmento dal vostro capello non è una vera decolorazione, è lunga da spiegare, comunque se non mi scordo vi lascio il video, il link di uno dei video che ho fatto ho fatto un errore, quindi altrimenti mi è una cosa troppo lunga, comunque ho sbagliato l'ultima volta perché cosa ho fatto? l'ho usato da molti giorni fa non ho sciacquato abbondantemente come si dovrebbe fare per cui, cosa è successo? che quando sono andata a utilizzare la fase 3 che è lo stabilizzatore è come se il pigmento, una parte del pigmento si fosse ridepositato sui capelli per cui il colore che ho fatto dopo mi è venuto più scuro del dovuto non che non mi piaccia, però diciamo che lo scopo era un altro però comunque adesso sta scaricando, va un po' meglio lasciate perdere la piega perché mi devo fare lo shampoo è questo molto in sintesi, questo per dire che va usato va sciacquato super 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 bene va ho finito una serie di tinte comunque fondamentalmente Magidelle della L'Oreal vabbè ma queste sono vecchie perché sono veramente vecchie fate conto che ancora ero rossa quindi ce l'avevo ancora qui vabbè lasciamo stare poi sempre in questo sacchetto cosa ho? questo bagnoschiuma della Neotramed Senso Len Oil che mi piace da morire ha un profumo fantastico se vi capita annusatelo l'ho comprato solo per quello poi ho finito la 700 miliardesima confezione di acqua micellare bifase di Garnier mi piace, la ricompro continuamente non penso di abbandonarla tanto facilmente poi qualche altro c'era queste sono veramente... ah vabbè ossigeno ma queste sono vecchie se le posso buttare così per com'è no queste sono tutte cose vecchie no ma tra l'altro penso di avervene già parlato di queste cose no? si si niente qua non c'è altro da farvi vedere poi qua ho invece qualcosa un attimino di più interessante allora tanto per cominciare ho finito il primo barattolo quindi il primo mese di trattamento con gli orsetti gobbosi mi sono stati inviati da questa azienda che è Jelly Beer Hair io ho chiesto specificamente di avere almeno tre mesi di trattamento altrimenti non aveva senso infatti io dopo un mese in questo momento dopo un mese di trattamento pieno assolutamente non ho visto nulla quindi vi farò sapere quando appunto finirò i tre trattamenti comunque cosa sono? sono integratori per capelli per chi non lo sapesse a forma qua sono finiti l'altro barattolo ce l'ho a casa di del mio fidanzato quindi non posso farvelo vedere magari me li leggo che è meglio è solo degli integratori a base fondamentalmente di biotina ma anche di altre cose poi ve ne parlerò nel dettaglio nel video che farò a tempo debito e basta quindi questo ve ne parlerò in futuro poi ho finito questi quadrotti della Clendy terribili per me quando è rimangono i migliori come cotone come tutto questi qua erano strani cioè apparentemente erano fantastici perché avevano tutto al bordo trapuntato fatti bene il problema era che come se fossero impermeabili per cui lo struccante non si fermava sul prodotto e quindi era un po' un casino insomma non erano proprio comodissimi da utilizzare questi quadrotti comunque grazie a Dio sono finiti sono ritornata ai miei quadrotti quando è poi prima che mi dimentichi quello che ho sulle labbra è in my birthday sweet di Mulac sugli occhi va un trucco molto semplice più che altro perché volevo provare il mascara e vedere bene l'effetto direi che si vede bene l'effetto del nuovo mascara Mulac ve ne parlo nel video haul che farò dopo girerò dopo di questo poi cerco anche un'altra posizione perché non mi piace questa e poi ho finito questa mousse detergente viso-corpo dell'Eubiotic mi è stata regalata al sana da Chiara mando un bacione che è semplicemente meravigliosa è giusto l'ultima applicazione comunque è semplicemente meravigliosa ma veramente fantastica una mousse talmente stupenda come consistenza che sembrava quasi schiuma da barba per farvi capire la consistenza ma niente era fantastica una cosa delicatissima è stupenda ve la consiglio si trova su ecco verde fantastica veramente fantastica dovrei averne un'altra dell'anno scorso che non ho mai provato però non era al goji c'era un'altra se non sbaglio comunque questa è delicatissima antietà protettiva la consiglio per tutti i tipi di pelle in realtà poi vi faccio vedere no i campioncini magari alla fine no ve le faccio vedere adesso i campioncini questo campioncino di mark jacobs del primer per gli occhi che si chiama undercover che era fatto così sono riuscita a utilizzarlo due volte ma sapete che mi è piaciuto tanto veramente tanto non me lo aspettavo non so più dirvi perché cioè nel senso si risceva la palpebra dava un leggero effetto uniformante e mi ha sconfinferato assai solo che non ha un costo così diciamo un rapporto qualità prezzo talmente alto da pensare di comprarlo solo che sono un po' stufa del primer potion in eden non so perché trovo che mi secchi un po' la palpebra nel senso non trovo si stenda così bene cioè faccio un po' fatica non lo so finalmente mi sta un po' sulle pane sto primer però mi piacciono i primer uniformanti io avrei anche quello anti-age di Urban Decay che è ottimo però preferisco i primer uniformanti stamattina infatti sono anche andata da NYX speravo di trovare qualcosa di simile come concetto però non ho trovato nulla e quindi per ora nisba poi l'altro campioncino che ho finito è dell'olio Willberry 10 di Mulac questo qua e come vi farò vedere vi dirò nel video haul a seguire mi è piaciuto così tanto che l'ho ricomprato cioè che l'ho comprato non che l'ho ricomprato ve ne parlo meglio nel video haul anche perché avendolo usato già tante volte vi so dire diverse cose e infine due prodotti uno non mi aspettavo finisse così presto sinceramente ce n'è un goccio ma no sì c'è un goccio ma faccio fatica a farlo uscire stasera provo a farlo uscire comunque sto parlando del siero Advanced Night Repair di Estée Lauder mi è stato inviato da Estée Lauder tramite Octoly vi ho già fatto un video in cui ve ne parlo anche se era troppo presto adesso che l'ho finito cosa vi posso dire sicuramente rimane il fatto che non mi piace come si stende sulla pelle asciutta motivo per cui io lo applico sempre con la pelle umida bagnata dall'acqua termale e così riuscivo a metterlo tranquillamente costa un sacco di soldi quindi dovessi dirvi lo comprerei no anche se a onor del vero da quando ho terminato cioè non da quando ho terminato dopo l'utilizzo averne fatto un utilizzo costante per molto tempo dopo il periodo iniziale in cui vi dicevo nel video avevo una zona secca qui ero stranissima qualcuno di voi me l'ha anche detto però l'avevo capito anche io in realtà che fosse colpa ma anche merito di questo siero perché questo siero praticamente stimola un po' il rinnovo cellulare quindi quella lì praticamente secondo me altro non era che la muta della pelle nel senso si stava rinnovando in effetti ho una pelle molto molto uniforme da quando utilizzo questo prodotto quindi secondo me è stato merito suo sul fatto di pensare di comprarlo ci dovrei comunque pensare aspetterei per vedere se passando ad altri prodotti la situazione cambi degeneri allora lì potrei capire se è stato lui cavolo me lo vado a ricomprare immediatamente costa tipo 90 euro quindi insomma è un prezzo importante però secondo me è merito suo quindi il mio parere finale è molto buono buono solo che non è di quelle non è un'esperienza sensoriale piacevole ecco questa è la cosa che mi ha lasciato un po' così però oggi mi hanno dei campioncini interessanti quindi devo un campioncino interessato quindi stay to no state state a court state rimanete continuatemi a guardare così magari ne riparleremo ultimo ma non ultimo per importanza soprattutto ho finito non solo ho finito un prodotto di make up che è già un evento ho finito una cipria e questo è ancora più un evento perché ne ho 3000 no ne ho diverse è uno dei prodotti che mi piace di più dovresti dirgli qual è il mio prodotto preferito nel make up probabilmente rispondere alla cipria non ne posso fare a meno quindi ne cerco sempre di buone e soprattutto sono molto attratta dalle ciprie molto sottili perché non avendo più una pelle giovanissima mi fa sempre paura l'effetto invecchiato e quindi cosa è successo che quando io ho toccato con le mie dita questa cipria in negozio sono rimasta tipo oh mio dio sto parlando della cipria di Clarence ne ho già parlato in passato allora ecco appunto stavo per dire proprio ce n'è un angolino ma non si riesce a prelevare perché non appena vado per prelevarla mi si sbriciola non riesco neanche a prelevarlo il prodotto perché è più quello che si sbriciola e va ovunque tranne che sul pennello che altro quindi per me è finita come è fatta è fatta così c'è il cassettino sotto ci sono le salviette ecco queste si che le recupero ovviamente non le butto le salviette assorbisebo queste possono risultare utili sono anche carine tra l'altro allora che dire di questa cipria la cipria di per sé all'inizio non mi era piaciuta perché io l'avevo comprata con lo scopo l'intento di portarmela dietro il problema è che con la sfugnetta non va bene non mi piace l'effetto perché invece che affinarli i pori li evidenzia invece col pennello non rivolto tantissimo perché la cosa che ho notato ecco ci sono altri cipri che affinano i pori non segnano eccetera eccetera però la cosa che ho notato e ho capito che era merito suo con vari tentativi che faceva durare tanto di più il trucco io mi mantenevo più opaca più a lungo ed è una cosa che difficilissimamente rarissime volte in vita mia io ho riscontrato in una cipria quindi straconsigliata però non se avete intenzione di usarla a casa con la spugnetta ma per quanto mi riguarda solo se avete intenzione di usarla col pennello ecco questo è quanto e basta mi sembra di non avere altre cose di cui parlarvi adesso vorrei fare un piccolo video haul e ci vediamo al prossimo video ciao ciao